squadra di nuovo in campo per il secondo tempo prima frazione che si è chiuda sul risultato di parità gara apertissima ferma Tutteri con questa palla sulla tre quarti Pirlo risolve problemi, grande intervento rischia grosso qui l'arbitro che si avvicina l'arbitro sceglie la linea morbida solo ammolizione verbale niente cartellino giallo palla che spiove deviazione di testa senza particolari problemi per il portiere lui era posizionato bene e non ha avuto nessuna difficoltà a intervenire corsa al centro si rifugia sul portiere, sul pressing avversario small league palla persa small league è fuori gioco, lui doveva aspettare abdul rahman occupa la palla e fa ripartire l'azione accompagnano l'azione romao romao toni qualità assoluta cercano continuamente il tiki-taka cross bloccato senza problemi dal portiere c'era rimessa con le mani sfuma l'occasione c'è campo per andare attenzione ripartenza che svanisce small league romao buona qui la lettura del difensore testata prova il cross tisca l'arbitro ed è dunque fuori gioco stavolta la tattica di giocare in linea con i difensori non ha pagato quando ho capito di essere oltre dagli avversari era tardi grande tackle difensivo palla messa fuori dal difensore si riparte con una rimessa laterale interrompe l'azione e concerne il palo laterale ottimo l'intercetto del pallone Romao Pirlo interessante la verticalizzazione qui sembravano esserci presupposti interessanti come non detto Alcaibari Sanchez efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi difesa scoperta ha spazio per andare parto di contropiede c'è spazio si esaurisce qui il contropiede Nocchi recupera palla grazie a un buon tackle occhio all'iniziativa da parte dei Raptors recupera una palla grazie all'ottima organizzazione può avanzare a spazio avanza la caccia dei gol che potrebbe chiudere i giochi palla pericolosa bravissima qui palla che finisce fuori si conquista la palla grazie a questo intervento guadagna una buona punizione per questo palla avanza la caccia dei gol che potrebbe chiudere i giochi abdul rahman interviene e recupera Totti cerca il sostegno dei compagni sembrava un'azione interessante così non è stato ancora 300 secondi alla fine della gara situazione di perfetta parità quando manca poco al termine ottima lettura difensiva c'è spazio per la ripartenza provano a sfruttare bene il campo occhio al pallone per il possibile vantaggio murato al momento del tiro ha provato la botta dalla distanza ma il pallone è uscito una conclusione potente che vista la difficoltà avrebbe meritato di certo sorte migliore e invece è finita di poco fuori peccato più Grazie.